In tutto il mondo il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne con una serie di iniziative per sensibilizzare su un fenomeno purtroppo sempre al centro della cronaca. La città di Fano aderisce a questa ricorrenza per questo fenomeno purtroppo sempre d'attualità come conferma anche la notizia uscita nei giorni scorsi di 5 persone denunciate a Fano e dintorni tra settembre e ottobre per maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza privata. Gli eventi organizzati dall'assessorato alle pari opportunità dalla presidenza del Consiglio Comunale e della conferenza delle donne hanno il patrocinio e la collaborazione del Consiglio regionale delle Marche. Il colore del rispetto, questo il nome del calendario di appuntamenti presentato in una conferenza stampa in comune e che si aprirà questa sera, giovedì 21 novembre, quando alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna alle 21 e 15 andrà in scena Filippo, un monologo scritto da Betta Cianchini e interpretato da Federica Quaglieri e che tratta di femminicidio. Lo stesso spettacolo sarà poi riproposto domani, venerdì 22 novembre, sembra in Sala Verdi dove in programma dalle 9 alle 12 c'è Il rispetto e un diritto di sempre consiglio monotematico al quale partecipano le studentesse e gli studenti di tutti gli istituti superiori fanesi e nel quale, come consuetudine, sarà letto l'elenco di donne vittime di femminicidio nel 2018. Saranno diversi poi i relatori di giornata, tra cui il dottor Stefano Seretti, dirigente del commissariato di polizia di Fano, l'avvocato Chiara Gasparini, il dottor Giovanni Di Bari dell'associazione Cante di Montevecchio, tutte figure strettamente legate al tema della giornata e che daranno degli importanti spunti di riflessione agli studenti e anche delle informazioni utili per denunciare eventuali casi di violenza. È stato un appuntamento molto importante per restituire qualche dato e qualche indicazione di quello che è il fenomeno della violenza di genere e quelle che sono le attività e i servizi che vari soggetti istituzionali e territoriali erogano anche nel nostro comune e fanno un grande servizio. E anche per quello che quotidianamente fanno è sempre di più e sempre meglio per le donne del nostro territorio.